provate a pensare di voler imparare a giocare a tennis secondo voi qual è il modo migliore seguendo lezioni di teoria oppure prendendo una racchetta in mano e scendendo sul campo ovviamente la seconda perché fare qualcosa è molto meglio di sentirlo raccontare e lo stesso vale per le nostre presentazioni ecco perché coinvolgere il pubblico è fondamentale per il successo della nostra presentazione io non sono sicuro che questa equazione abbia una valenza matematica ma se non la siamo molto vicini credo è veramente fondamentale ottenere il convolgimento del pubblico e prima di vedere come farlo ci sono alcuni modi che sono sicuri garantiti per ottenere il risultato contrario cioè per non coinvolgerlo sicuramente avere delle presentazioni in cui